Saper attendere 10 aprile Figlia mia, sperare è anche saper attendere. Quella conversione continua che il Signore vuole da ogni anima e che forse non si sa realizzare, spesso viene pretesa da altri con impazienza. Occorre saper aspettare e nel frattempo pregare, procurando di correggere i difetti che vediamo negli altri, soprattutto con il nostro comportamento. Se ad esempio, tu vedi in altri la mancanza di spirito di sacrificio e di umiltà, procura di esercitare tu queste virtù. Anche senza avvedertene, farai pratica efficace per quelli che ne hanno bisogno e sarai loro d'aiuto attraverso la grazia che aumenti in te. Se avverti che il demone della lussuria ha preso persone a te care, pratica la virtù della castità con maggior impegno, otterrai ad esse la grazia di reagire al male e di convertirsi. In tutto e sempre occorre la speranza, poiché non si demolisce una casa in un istante e non si può costruirla altrettanto velocemente. Occorre avere fiducia, pazientare e tener viva la speranza che nessuna preghiera, nessun sacrificio, nessuna virtù rimarranno senza ricompensa. Tutto sarà premiato e i desideri santi saranno esauditi. Grazie. Grazie.